Si parla di un nuovo piano per la spiaggia, per gli stabilimenti, si parla di Bangalove al posto delle cabine. Ci sarà un incontro dove si parla ovviamente di quelle che saranno le condizioni e anche le limitazioni. Qual è la posizione? Ma guardi, io ho visto stamattina sulla stampa una polemica che secondo me chi l'ha iniziata se la poteva risparmiare. Primo perché noi non è un nuovo piano ma è un piano che noi dobbiamo redigere e ci è stato ereditato dalla regione Abruzzo. Secondo, si vuole dare all'interno della ricettività un'opportunità di eliminare tutte quelle brutture che stanno all'interno degli stabilimenti balneari e dare questo premio a chi mette in piedi una situazione di ricettività e consentire forse alla città di Pescara più posti letto e che comunque stiamo parlando di almeno di un 10% dell'aria in congestione e quindi ci riferiamo a 30 metri quadri che servono per fare due strutture. La posizione del centro-destra sul piano demaniale degli stabilimenti, su cosa si concentra in questa occasione? Innanzitutto si concentra anche sulla possibilità per gli operatori del settore di avere una chance in più proprio sotto l'aspetto di maggior fruibilità dei loro stabilimenti balneari ma proprio aumentando la vocazione turistica. Quindi la possibilità di trasformare in bungalow le cabine noi la vediamo assolutamente positivamente. Certo è però che queste nuove strutture non dovranno comunque essere da ostacolo alla vista del mare perché è giusto che si tuteli anche la vista del mare. Esiste un termine per l'approvazione della proposta? Io ho convocato questa commissione in via straordinaria nell'interno della sospensione feriale in quanto abbiamo l'urgenza di approvarla entro il mese di gennaio affinché sia applicabile anche alla prossima stagione balneare. Quindi è assolutamente indispensabile che il piano demaniale venga adottato dal Consiglio Comunale entro la fine di gennaio per arrivare all'approvazione nei mesi primaverili affinché poi già da maggio i balneatori possano dotarsi delle migliorie concesse dal piano regolatore.